Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, con un'unica passione per la bicicletta. Un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia in altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore, il distacco già cresce, e chi sarà il campione, già si capisce. Sì, sono con Fabio Rusciano, ci troviamo a Formia. Fabio, i miei complimenti per l'annata, il diagonismo che hai fatto con la Bohemia. Tanta lezione a qualche senatore. Mi sto divertendo. Ti sta divertendo? Sto iniziando a carburare. Ti fatto bene, ti stai dando qualche lezzoncina a qualche senatore della Bohemia. L'anno prossimo mi divertirò ancora di più, spero sempre di migliorarmi. A me, a me mi passava capo, regalo, figurato. Fatto questa promessa. E stare con gli amici. Fatto questa premessa, premessa. E' buono. E' fatto bene. Dagli una lezione. A chi lo stanno solo presuntosi lì dentro. E' un gruppo che era riusciato bene, come amato. Sì, sì, vanno tre e quattro vini in Agassus. E' un colpa di qualcuno. Io sono io, come sei, e si è rovinato un bel gruppo che ci ha formato da inizio. Che ci divertiamo tutti quanti. A parte Giovanni Calcavallo, quello è la parte, lo sappiamo tutti, è di un altro pianeta. Cari senatori, peccatovi Fabio Rusciano. All'inizio mi sono divertito, ci stavano tutti quanti indietro, è il stesso passo. E questa è la verità. E' quello sono tutto un buon. Un grande qualcuno che poi ha iniziato a discriminare il compagno di tanti allenamenti. E' quello che ha fatto di questo, sono bravo solo a discriminare. E' mi dispiace. E' quello che ci stanno ripetendo a noi, dice, atto, quando è andato a ripollare, dice, la puzza. Non credo come si faccia a criticare una persona che ci ha fatto allenare tutto l'interno. E' stato sempre lì davanti a tirare. Non lo so, e faceva tutto. E faceva tutto. Mentre altri non fanno tutti. Sì, sì, sì. E' stato discriminato e si è creato tutto un basista. E' alla fine si è facciato un po' tutto. E' smaltato. E' fatto. E' sono rimasti... E' sono rimasti tre cari. Tre cari. E' chi lo finchè si competono fra di loro. Alla fine rimarrà solo. Alla fine rimarrà solo, secondo me. Ciao Fabio, grazie, sei un grande. Complimenti, davvero.